In quale settore strategia ritieni che i vostri fondi multi-asset offrono il massimo valore aggiunto dagli investitori? In questo momento la miglior selezione di un prodotto multi-asset da avere in portafoglio non è solo relativa a quale strategia interna possa essere la più vincente in termini di rendimento ma io penso che sia molto importante selezionare quale bisogno esplicito un prodotto multi-asset oggi possa andare a coprire perché in effetti abbiamo una situazione di mercato dove è inevitabile posizionare i portafogli in maniera diversificata proprio per la situazione di tasso e di politiche monetarie che abbiamo da vedere di fronte a noi per i prossimi anni. In questo momento con possibili scenari di aumento di rialzo dei rendimenti, di inflazione, di turnover di portafogli globali dove il rendimento diciamo core europeo sta ridando rendimenti sulla parte azionaria ma non sta dando rendimento sulla parte obbligazione azionaria la soluzione, il bisogno multi-asset è principale per la clientela ma io penso che il bisogno che debba essere coperto da parte del cliente sia relativamente a come costruire un rendimento rispetto al proprio obiettivo. Quindi la risposta è stata con uno strumento multi-asset. Il cosa sto facendo con questo strumento multi-asset è molto importante. Mi sto proteggendo rispetto ad esempio a un rientro di volatilità che potremmo avere successivamente nei prossimi mesi, nei prossimi trimestri allora in questo caso lo strumento multi-asset deve avere anche nel suo processo di investimento un effetto di protezione o con un budget massimo di volatilità da dover rispettare oppure proprio con una garanzia esplicita magari su una massima perdita potenziale nel tempo. Oppure dall'altra parte essere strumenti di grande ricerca di rendimento in modo tale che il cliente possa capire e intuire se questa strategia multi-asset si è adatta a generare income, cioè cedole sostitutive di quelle che oggi non trova più a mercato con la singola asset class. Allora in questo caso la frontiera diventa barbell dal mio punto di vista in una strategia multi-asset o protezione diversificata con una strategia a più asset class oppure una grande ricerca di rendimento posizionando il portafoglio su asset class tipicamente non gestibili in amministrato dal cliente molto più internazionale dove anche il credit spread diventa molto più importante. Quindi innalziamo il rischio di portafoglio ma aumenta l'obiettivo di rendimento implicito del cliente ed abbiamo quindi coperto i due bisogni protezione e rendimento. Se volessimo poi chiudere un'ultima cosa è indubbiamente lasciatemi citare i piani individuali di risparmio. I prodotti per individuare di risparmio in Italia sono nati in questi mesi tutti come strumenti comunque bilanciati di diversificazione quindi rientrano comunque in quella che può essere l'ottica dei multi-asset. Il vero è che finanziano soprattutto il nostro paese quindi c'è un impegno ad un minimo di investimento significativo sulle aziende italiane e soprattutto anche su quelle che non sono quotate su Fuzzimib quindi è un progetto finanziario importantissimo per rivalutare il nostro paese, le nostre piccole e medie aziende virtuose che stanno crescendo nel mondo e stanno anche diventando leader in alcune delle loro capacity. Abbiamo aziende molto importanti che possiamo finanziare attraverso questi strumenti di investimento ma se torniamo all'idea originale del prodotto multi-asset ci rendiamo anche conto che un vantaggio fiscale come quello di non dover pagare capital gain sulle plusvalenze realizzate dal quinto anno su un investimento appunto come quello del piano individuale del risparmio vediamo che combinare una pluralità di asset class, in questo caso anche domestiche italiane permetteranno ai clienti di avere un portafoglio diversificato ma anche con un vantaggio fiscale e quindi non solo protezione, non solo ricerca di rendimento ma anche vantaggi fiscali da poter portare in una propria corretta pianificazione finanziaria di portafoglio.